è un grande piacere per me essere qui con questi giovani musicisti parlava di giovani e fra l'altro voglio dire Fabrizio è bravissimo davvero, fortissimo farei un bel applauso mi auguro tanta fortuna perché se ne merito è un piacere per me essere con i miei giovani musicisti Giorgio Marcelli al basso Mauro Carraro alla batteria e Nick Carraro alla piccata cominciamo con questo mio pezzo che si intitola Aulon 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione